Uno sbuffo di sovrappressione che segna la svolta green della Orion. La storica azienda di via cabotto a Trieste tra i grandi marchi della valvolistica internazionale traccia una nuova rotta con gli impianti IPS, sistemi che integrati alla classica valvola sono in grado di evitare gli incidenti tipici delle raffinerie in caso di sovrappressione nell'impianto, situazione che tipicamente produce quelle altissime fiammate pericolose oltre che dannose per l'ambiente. Questo è un sistema di protezione delle sovrappressioni, quindi Orion è un'azienda di valvole, abbiamo sviluppato negli anni competenze, abbiamo migliorato i nostri prodotti e abbiamo visto delle necessità ambientali perché questo sistema va a migliorare l'impatto ambientale di questi impianti perché gli impianti di protezione e sovrappressione tradizionali sono le fiamme di raffinerie, quelle che tutti vediamo brutte sulle piattaforme che bruciano sempre. Il principale motivo di incidenti sono gli impianti di idrocarburi sulle sovrappressioni e questo è un impianto che andrà per il nostro cliente Saipem in Angola, il cliente finale Eni Angola, sarà un terminal che riceve dall'offshore gas condensato ad alta pressione, la pressione viene ridotta, viene passata in questo sistema e poi viene processato. Possiamo fare anche una prova in diretta, cioè simulare una sovrappressione e l'impianto che la blocca. Esattamente, adesso simuleremo una sovrappressione e vedrete come reagisce l'impianto. Occhi al botto, eh! Prego! La valvola è già chiusa, quindi la sovrappressione è stata intrappolata nella parte disegnata per l'alta pressione e tutto l'impianto downstream sarà preservato e salvato. Nello stabilimento triestino, che ha alle spalle una storia lunga 72 anni, lavorano 174 persone come dipendenti diretti e toccano le 220 unità con l'indotto, con una spinta sempre più forte all'innovazione e alle tecnologie green. Quello visto in azione è già il dodicesimo impianto IPS prodotto nella città della Bora in collaborazione con la ditta Radovani.